1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 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 go! 1, 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 go! Che poi oltretutto c'è un bordello di caramelle anche perciò potrei anche tranquillamente tenerle 1379 E c'ho anche... oddio Oddio ma c'ho... mi mancano tre caramelle Tre caramelle posso fare evolvere anche lui Beh buono questa qua è una buona cosa da fare C'ho Psyduck a livello 501 da fare evolvere tranquillamente C'è un bordello di evoluzioni da fare raga E le più belle me le sto tenendo per... ce ne sono tre mi sembra belle da fare Che sono diciamo abbastanza rare ecco Questo qua è anche bello mi deve uscire almeno al 1000 sto qui Minimo minimo al 1000 Minimo eh 1104 va bene perfetto Poi vediamo un po' c'ho Slowpoke Slowpoke come cazzo si chiama sto scemo Minchia lo stavo per eliminare E questo anche è buono si riesce di buon livello E' veramente buono perchè il livello... primo livello... cioè primo livello... prima evoluzione neanche Provoluzione base è al 605 Almeno al 1000 mi devo uscire eh Almeno 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 eh Andiamo un po' Adesso neanche ce l'avevo Questa è buona Che livello... 1302 oddio Vabbè possiamo fare evolvere anche Squirtle raga Squirtle mi sembra una cosa più che logica Cioè voi non ci credete raga mi sto guardando la prima serie su YouTube dei Pokémon grazie a sto Pokémon Go Era da una vita che non la vedevo Questo è cazzuto Questo è tanto cazzuto Mi chiedo ancora scusa per le... per la ripresa però non posso fare altro Eh... Bulbasauro sarà parecchio difficile Ah 498 buono Ok diciamo che queste qui sono... vabbè c'è Staryu che potremmo farlo evolvere Vediamo un po' Vediamo un po' che livello può uscire All'800? 900? Ce l'ho già eh perché ce l'ho già anche questo però Che livello è? Mi interessa il livello a me perché ce l'ho già All'800? Almeno all'800 dai 1125 porca troia Porca puttana Rhinel possiamo farlo evolvere? No Che pollo c'è Ne avevo così tante da fare A parte quella che ho fatto il fail Eh... Krabby, Magico, Fink, Cadabra Vabbè possiamo fare Hunter raga Eh... mi disp... ma ce l'ho i doppi punti per carità di Dio Voglio vedere... ah si ce l'ho all'uomo Oddio 19.000 punti Porca troia Minchia avete visto... non so se avete visto ma mi è uscito 19.000 punti Solo per l'evoluzione raga Porca puttana Allora dire possiamo fare evolvere Bellsprout che... Visto che è lì che rompe i coglioni Anche questo potrebbe uscire un bel Pokémon eh? Visto che è già a livello 500 e passa Andiamo un po' Sono curioso soltanto di vedere a che livello esce Il livello è 877, questo è buono Allora possiamo fare evolvere... ah Geodud... C'era anche Geodud da fare evolvere cazzo è vero Me l'ho dimenticato Geodud ha anche l'evoluzione di Geodud qua nel mio paese Diciamo che è un pochettino rara Ma un pochettino rara è quello che vi farò vedere dopo Perché sono le tre evoluzioni dopo che sono veramente rare E soprattutto molto forti Eh... questo mi piace Questo mi piace parecchio Che min... vabbè a parte che è scarso L'ho fatto evolvere di... a me è quello dopo Mi minchia quello dopo è cazzuto 504 non è male dai Allora possiamo fare evolvere prima Hunter Visto che... Diciamo che tra i tre È quello un pochettino più trovabile ecco da me E questo anche secondo me può diventare un buon Pokémon Almeno di... almeno di livello 1300 mi deve riuscire sto Hunter No... si Hunter No... com'è che si chiama lui? Mi sono fatto un fail a chiamarlo prima Hunter Com'è che si chiama? Vedete quanti Pokémon ho qua Ah Jengar 1116 va bene Non è male Non è male Eh... possiamo fare evolvere... Charmend lo otteniamo per ultimo Eh ne manca una alla fine Magikarp Eh è una cosa che mi ero del culo L'agak è Magikarp C'ho altre canamelle Potevo potenziarlo Però... Vabbè possiamo farlo evolvere Dai Questa qua è... È rara come evoluzione Sto Pokémon di merda Che mi ha fatto cristare così tante volte Per sto cazzo di Geridos Guarda che bello Mi crascio il telefono Vediamo un po' Sto Geridos Olè finalmente Che livello mi esce soprattutto Perché mi interessa quello Perché mi esce una pipa Mi sa Perché avevo fatto la cazzata Secondo me dovevo potenziare Magikarp Molto probabilmente Vediamo un po' 1317 Porca puttana E posso ancora potenziarlo? Oddio È una bestia Vabbè ma allora raga Voglio vedere cosa mi esce qua Cioè io qua devo mettere la musica sottofondo Di Rocky Balboa Una cosa del genere Perché c'è l'evoluzione di Charmander Mamma mia Dopo tanto tempo Cazzo sono andato fino a Milano E raga per catturarlo Ecco perché avevo fatto vedere il caricabatterie Perché ci siamo organizzati Siamo andati giù a Milano Al Parco Sempione Per catturare Solo Charmander Sono stato dalle 11 Fino alle 5 e mezza No fino alle 6 e mezza Di sera Parco Sempione 821 Raga sto cosa mi esce una bestia Attenzione Attenzione Fa evolvere Attenzione Charmillion si evolve in Charizard Attenzione Minchia Aspettavo un casino sto momento Mamma mia Eh questo mi esce una bestia Mi esce una bestia Almeno al 1500 mi devo uscire Charizard Per forza Eccolo Eccolo Voglio il livello Voglio il livello Non me ne frega un cazzo Voglio vedere il livello anche Vediamo un po' Registrato nel Pokédex Charizard No ma aspettavo di più cazzo 1422 basso C'è soltanto ancora 3 caramelle Da mettergli su Vabbè va bene dai Non è andata male C'abbiamo un Pokémon abbastanza forti Allora da L alla Z No aspetta Da puntilotta Vediamo un po' che il mio Pokémon più forte è Charizard Eh beh Charizard Guarda mia non ne ho pochi È di Pokémon scarsi Allora volevo fare una cosa Siccome c'avevo Rainer Ok devo soprannominare Rainer Eevee Ok Proviamo Non so l'ho letto su internet Questa cosa qua Allora Cancelliamo Rainer Rainer Ok Ok possiamo farlo evolvere Vediamo un po' Se mi esce di livello abbastanza forte Spero di sì eh Vediamo un po' E dopo questo chiudiamo direi Ci abbiamo fatto No Porca troia Perché No Volevo il Pokémon d'acqua Io Vabbè non mi lamento Dai è buono lo stesso Vabbè ma allora a sto punto Raga facciamo evolvere Quelli via a caso Magari Ma dove cazzo è Ok guardalo qua Facciamo caramello Ok perfetto Facciamolo evolvere Boom Vediamo come va Ok magari mi esce adesso Con l'olio azzurro Spero Perché se mi esce ancora di fuoco Mi incazzo Beh perfetto Perfetto Il Pokémon che volevo Lo volevo più forte Però vabbè fa niente Non è quello il problema 1177 Perfetto Eh raga altre evoluzioni Eh non ne ho Mi dispiace Ma purtroppo Non ne ho ancora Però diciamo che Cioè Non sono merda eh Non sono Dove cazzo è Che è Non ho Pokémon Da poco eh C'ho Geridos Poliward Charizard I Pokémon di punta E c'ho ancora Tante caramelle Per potenziare Soprattutto Poliward Infatti punta quello Mi sa Bo raga Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi lascio con l'immagine Sottofondo di Charizard Lasciate un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al mio canale Se vi va Passate dalla mia pagina Facebook Sempre in descrizione Io vi saluto Eh Ci becchiamo Alla prossima Oddio Complimenti Ho ottenuto un premio Pokémon Mi ha dato 13.000 Cioè abbiamo quasi Passato il 21 Siamo quasi al 21 Era a livello Raga Ero a 3.000 punti 3.000 Siamo a 38.000 Incredibile Perfetto Minchia Minchia Mi insegno Madonna Madonna Oh raga E niente Se volete Passate dalla mia pagina Facebook Che è sempre in descrizione Io vi saluto Ci becchiamo Alla prossima E da Beppe è tutto Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Beppe, siamo al palco Sempione. Si può notare la gente che gioca a Pokémon, e anche noi, tutti quanti, e pieni, circa un navigo con il glow, i gruppi che si vedono in giro per fatturare i passaggi. Qui ce ne sono altri, poi ce ne sta passando un altro, poi arriva un altro, poi arriva un altro, poi arriva un altro, Greco! Non basta, cazzo il mio zaino! Grazie!